Siamo arrivati alla fine del primo corso di Brand Extension and Licensing, un corso che ha visto la partecipazione di alcuni professionisti di grandi aziende, da Coca-Cola a Kiko al gruppo LVMH, il caso Domina che ha attraversato tutto il corso. Questo corso è stato molto bello visto sia dalla parte degli studenti che dalla parte dei docenti perché tutti ci hanno messo il cuore oltre il trasferimento di nozioni, quindi tanti lavori pratici, quindi tanto discutere insieme, ragionare insieme. Le lezioni non sono quasi mai state frontali con qualcuno che parlava e gli altri seduti ma sempre un bello scambio e questo ha portato i ragazzi a crescere molto. Un altro aspetto molto bello è stato il caso sul quale abbiamo lavorato Domina. Lavorare sui servizi in Brand Extension sicuramente era una bella sfida che i ragazzi hanno colto e hanno portato avanti molto bene. Il rapporto tra Domina e IED è inevitabile visto che abbiamo gli uffici a 100 metri dalla sede dello IED. Sicuramente Domina sta attraversando un percorso di rinnovamento, di ringiovanimento e quindi da parte mia c'è anche il piacere di raccontarlo, specialmente di raccontarlo ai ragazzi giovani, come sono evidentemente quelli che frequentano i corsi, e da un punto di vista professionale e personale, anzi direi, il piacere di trasferire le esperienze che ho fatto in questi anni, avendo tipicamente quasi la stessa età, sono poco più vecchio dell'età media dei ragazzi che frequentano, e quindi ho la possibilità di trasferire la parte pratica di quello che loro stanno magari studiando a livello più teorico. Questo devo dire che è una forma di arricchimento personale che mi piace molto. Se dovessi dare un consiglio agli studenti, sicuramente di prediligere gli aspetti attitudinali rispetto agli aspetti esperienziali. Per me il corso è stato sicuramente motivante. Se dovessi dare un aggettivo al corso, direi indubbiamente, per la mia esperienza, illuminante. Ho scelto questo corso perché volevo approfondire le nuove strategie di marketing adottate dalle aziende, e quindi in particolar modo le collaborazioni tra diversi brand. Lo consiglierei sicuramente ed è stato molto appassionante per me.